più stupirai quando avrà detto il resto quali arti escogitai quali scienze e questa è la più grande ove taluno cadea nel morbo né un rimedio vera non pozione non cibo d'un guento ma consunti per ian privi di farmachi sinch'io delle medele e dimostrate le salutare mescolanze onde hanno contro ogni mal riparo e ai modi molti dei vaticini ordine posi e prima nei sogni sceverai quello che debba nella veglia avverarsi e chiari treci i pronostici oscuri e i presagi che si incontran per via minutamente distinsi il volo dei rapaci augelli e quali infausti e quali sono propizi e la vita ad ognun dessi e il costume e quali amori e quali odi intercedano o convegni tra loro e delle viscere qual nitidezza verdebbano e quale color labile perché piaccia ai demoni e le forme e i color vari del fegato e le membra dipingue adipe avvolte e il femore lungo e al fuoco postele guidai verso un'arcana arte immortali e chiari i segni della fiamma resi che ciechi erano prima e di ciò basti e quante utili cose in grembo al suolo giaceano nascoste all'uomo il rame il ferro l'argento l'oro chi potrebbe dire che le rinvenne pria di me nessuno sappilo quando mi lantar non voglia ma tutto apprende in un sol motto breve tutte di è prometeo l'arti ai mortali grazie a tutti